In un servizio televisivo apparso di recente sulle Iene è stato proposto ad alcuni intervistati in procinto di salire sull'altare un contratto prematimoniale piuttosto insolito. In esso i futuri coniugi avrebbero preso solenne impegno a rispettare alcuni obblighi dal contenuto provocatorio e piccante. Tra le varie clausole compariva la ripartizione dei lavori domestici e soprattutto l'assunzione dell'obbligo a osservare una prefissata periodicità dei rapporti di coppia, con conseguente descrizione delle relative pratiche. Del resto, dopo l'accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevedeva sesso almeno quattro volte alla settimana, non poche coppie si sono chieste se sia valido un contratto prematrimoniale con un numero minimo di rapporti sessuali. Sarebbe legale un accordo di questo tipo? Ecco cosa prevede la nostra legge. Questa è la legge! Dopo la legge per tutti non poteva mancare il sequel, la Costituzione per tutti. Perché la legge deve sempre rispettare la Costituzione. E chi può dire di conoscere davvero come si interpreta la legge se non conosce la nostra Costituzione? Ecco perché ho scritto questo libro simpatico, allegro, divertente e pratico, con parole semplici che anche chi non ha studiato legge può capire. Qui troverete il significato di ogni singola parola della nostra Costituzione e soprattutto troverete i perché siamo oggi così. Qui ci sono le risposte. Per l'ordinamento italiano, ma in realtà anche per quello di numerosi altri stati, non ha alcun valore l'impegno a garantire un numero prefissato di rapporti sessuali. È vero, il fatto di consumare il matrimonio, come si dice con terminologia aulica, fa parte dei doveri di marito e moglie, e la stessa giurisprudenza ha anche stabilito che i rapporti di coppia rientrano negli obblighi di reciproca assistenza morale tra coniugi, obblighi imposti dal Codice Civile. Ed è anche vero che la violazione di queste prescrizioni consente di rivolgersi al giudice e di chiedere la separazione con addebito all'ex, al quale pertanto non saranno dovuti gli alimenti. Ma è anche vero che un patto che preveda una periodicità o un impegno prefissato nei rapporti sessuali è nullo. Questo perché, per il nostro diritto, la volontà sessuale deve essere attuale e spontanea, non frutto di coercizioni, neanche se provenienti da un precedente impegno che si è scelto spontaneamente di sottoscrivere. In buona sostanza, fare l'amore deve essere il frutto di una libera scelta di quello specifico momento. In caso contrario, dinanzi alle pressioni e ai ricatti, potrebbe anche scattare il reato di violenza sessuale, che non richiede necessariamente per potersi configurare una costrizione fisica. L'illecito penale si potrebbe infatti configurare anche dinanzi a una pressione psicologica o alla minaccia di separarsi. Così, ad esempio, chiedere all'altro coniuge di fare l'amore quando questi non vuole e minacciarlo in caso contrario di andare via di casa per sempre, è violenza sessuale. E lo è anche solo paventando il ricorso al giudice per la separazione al fine di costringerlo contro il suo volere. Eppure, amici miei, resta sempre possibile chiedere il divorzio da un coniuge che puntualmente, senza un giustificato motivo, si sottrae agli obblighi matrimoniali come appunto quello dei rapporti. Comprendere questo aspetto significa capire la differenza che c'è tra il diritto civile e il diritto penale. In un'ottica civilistica è possibile separarsi dal coniuge con il perenne mal di testa, evitando così di versargli l'assegno di mantenimento. In tal caso, infatti, il matrimonio è cessato per causa sua. In un'ottica penale, invece, non si può mai costringere il partner ai rapporti sessuali, a meno che non si voglia incorrere in una condanna per violenza sessuale. E allora la prostituzione? La prostituzione in Italia non è reato. Ma questo non significa che il contratto con la prostituta sia valido. L'impegno scritto o verbale che sia concluso con la escort non può mai essere portato dinanzi a un giudice per ottenerne l'attuazione. E ciò perché gli atti di disposizione del proprio corpo sono contrari alla morale e quindi l'accordo non è tutelabile dinanzi a un tribunale. Insomma, la prostituzione è legale, ma non c'è modo di difendersi in giudizio nel caso in cui una delle due parti sia inadempiente agli impegni assunti, come il pagamento del prezzo o le esecuzioni delle prestazioni concordate. Torniamo al nostro contratto prematrimoniale. Più in generale, la nostra legge non ammette i contratti prematrimoniali. In Italia non è consentito prendere accordi prima o durante il matrimonio stabilendo in anticipo i doveri matrimoniali o le conseguenze di un eventuale divorzio. I doveri del matrimonio sono fissati in via indelogabile dal codice civile e non possono essere personalizzati. Tra questi vi è l'obbligo di fedeltà, di convivenza, di reciproca assistenza morale e materiale, di rispetto e di contribuzione ai doveri della famiglia, per cui ciascuno dei due coniugi, con il lavoro personale o con il proprio stipendio, deve prendersi cura dell'altro coniuge della casa e dei figli. Allo stesso modo, non è possibile prestabilire l'importo dell'assegno di mantenimento, la destinazione della casa coniugale o l'affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio. L'unico accordo che la giurisprudenza ammette è quello relativo all'eventuale rimborso di spese effettuate durante il matrimonio. Pensate al coniuge che abbia speso gran parte del proprio reddito per ristrutturare la casa dell'altro e che in forza di ciò gli chieda di firmare un impegno a restituirgli il 50% del denaro in caso di separazione. Questo è l'unico accordo prematrimoniale o matrimoniale che potrebbe essere tutelato in un'aula giudiziaria. Tutti gli altri casi sono esclusi dalla volontà della legge e dalla volontà di Dio. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge e come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.